Vi mostro tutte le cose che ho preso della collezione Barbie per Kymark Iniziamo ovviamente da questo toppettino con scritto appunto Barbie E abbiamo questo super costumino bellissimo raga Ho preso anche ad abbinarci il telomare, nonché le ciabattine Raga queste non so se mi stanno più di Barbie o di Lizzie McGuire però vi duro sono bellissime Non potevano mancare gli occhiali ovviamente, super fashion Poi abbiamo questa tutina intera, super super aderente e bellissima Il più manichino l'avevo vista abbinato a questa giacca di jeans bianca e quindi ho deciso di prendere anche questa Che poi si può utilizzare ovviamente sempre ed è bellissima Poi ho preso quest'altro ciabattine ovviamente rosa In estate stanno così Poi c'è questo pigiamino composto dal pezzo di sopra con la B ed è lungo circa fino a dopo la pancia E qua dietro c'è scritto Barbie E il pantalone è super carino, ha la figura con il laccetto, anche qua c'è la B, anzi c'è scritto Barbie Ed è lungo lungo così, super morbido, super carino Poi abbiamo un pack di tre paia di calzini Il primo un po' sportivo con scritto Barbie sulla caviglia Il secondo tutto rosa con scritto Barbie ovunque E il terzo fucsia con la B sul davanti E infine come ultima cosa ho preso questo mollettone, questo ciabco, non so come lo chiamate voi Ovviamente tappezzato di Barbie Sì Sì